È il momento ora di parlare di salute perché arriva a Roma il medico a domicilio, un medico per le analisi del sangue e per le visite specialistiche. La notizia più bella è che costa anche meno del laboratorio d'analisi. Sentiamo. Parliamo di un servizio innovativo nel campo della sanità qui a Roma. Ma questo servizio che verrà offerto ai cittadini e ai pazienti romani come si chiama e in che cosa consiste? Si chiama Pronto Dottore. È un servizio già attivo sul territorio romano e prevede un'offerta relativamente alla prenotazione di specialisti a domicilio. Quindi noi diamo la possibilità ai pazienti di essere visitati a domicilio direttamente dallo specialista, che si tratti di un medico, che si tratti di un fisioterapista. Nel particolare stiamo promuovendo questa organizzazione che si occupa di fare i prelievi a domicilio. Nel senso che facendo il prelievo a domicilio costa di meno che farlo in laboratorio. Noi abbiamo organizzato in particolare dei listini privilegiati per i pazienti e quindi loro riescono ad accedere a questi prezzi particolari anche se a domicilio costa di meno. Ecco, quindi un servizio da questo punto di vista molto innovativo perché è comodo, quindi si possono avere le prestazioni a casa, ma è anche meno costoso. Com'è possibile che sia meno costoso nonostante il fatto che le visite avvengano a domicilio? È meno costoso perché noi ci rivolgiamo ai laboratori e contrattualizziamo direttamente con loro, quindi in pratica è come se fosse un enorme gruppo di acquisto da parte dei cittadini. Il cittadino accede a questi listini privilegiati e non si muove da casa, non deve preoccuparsi di parcheggiare, di prendere l'autobus, la metropolitano, che né tantomeno di prendere permessi dal lavoro, malattie eccetera. Facciamo un esempio, con una certa prestazione, non so, l'analisi del sangue, quanto si va a risparmiare rispetto a quelli che sono i costi standard? Su una routine standard che noi di solito eseguiamo una volta all'anno c'è quasi un 30% di risparmio, incluso il servizio domiciliare. Quindi una percentuale è notevole. Come si fa a prenotare questo servizio, a mettersi in contatto con voi, immagino con un sito internet? Sì, attraverso il sito internet, prontodottore.eu, ci sono i recapiti telefonici, si manda l'impegnativa del medico, l'impegnativa bianca, la ricetta bianca, la ricetta rosa, se si ha quella rosa con sé, si manda per email oppure semplicemente tanti preferiscono mandarla su WhatsApp, quindi scattano un'immagine e la mandano su WhatsApp. Allora vogliamo ricordare in chiusura che tipo di analisi possono essere effettuate attraverso questo servizio, tutte le prestazioni oppure solamente alcune? Tutte le prestazioni. Noi al momento abbiamo a listino più o meno un migliaio di analisi possibili da eseguire, quindi anche eventualmente genetiche.